A sinistra, nel congresso del PD, cito testuale, Goffredo Bettini ha detto dobbiamo recuperare la scintilla della rivoluzione d'ottobre. La più giovane deputata ha detto che dobbiamo recuperare la figura di Lenin e spiegando perché entrano nel PD che noi abbiamo abbandonato, Speranza ha detto dobbiamo abbattere il neoliberismo. Cioè, avevano noi due che parlavamo di industria 4.0 e di lavoro, hanno scelto la rivoluzione d'ottobre e poi hanno fatto entrare Gianrusso e Di Maio. Per dirla con la filosofia contemporanea, avevano una Ferrari, hanno preso una Twingo. Questo è un po' il ragionamento che stanno cercando di... Questo è il PD di oggi.